Sacerdoti in primis, ma anche intellettuale, storico, insegnante, giornalista. Questo e molto altro è stato Don Germano Mancini, faroguida della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Nocerascalo, venuta a mancare nel giorno di Ferragosto all'età di 88 anni. Nato il 15 novembre del 1933 a Laverino, frazione di Fiuminate in provincia di Macerata, ordinato sacerdote nel giugno del 1957, dopo aver frequentato il seminario di Nocera e quello regionale di Assisi, Don Mancini ha dedicato la sua vita anche alla scuola, insegnando prima lezioni di francese presso l'istituto privato del seminario di Nocera e poi religione in diverse scuole pubbliche folignati. Innumerevoli, inoltre, i campi scuole estivi dedicati ai giovani da lui stesso, organizzati e costante il suo contributo per la ricostruzione della chiesa di Nocera Scalo, completamente distrutta dal sisma del 1997. Centrale nel percorso di Don Germano anche l'intensa attività giornalistica, in particolare al settimanale diocesano La Gazzetta di Foligno, in cui è stato per ben 43 anni svolgendo il ruolo di direttore dal 1976 al 2009, per poi divenire direttore anche del periodico L'altra Nocera. Un sacerdote d'altri tempi, una guida spirituale di immensa cultura e di infinita umanità, così lo ha ricordato il sindaco di Nocera Giovanni Bontempi. Un giornalista libero, mai asservito al potere e a logiche politiche, ha invece ribadito il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini. Era un prete battagliero, ma capace di parlare a viso aperto e di abbandonare qualsiasi rancore, rammenta l'amministratore apostolico Monsignor Gualtiero Sigismondi, presente al funerale, che si è tenuto nella chiesa di Nocera Scalo, commessa presieduta dal Vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, e da poco nominato Vescovo di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino, che ricorda le qualità umane e spirituali di Don Germano Mancini. Don Germano è una bella figura di uomo, di cultura, di giornalista, ma soprattutto un prete, un prete che ci credeva, è stato tanti anni davvero il prete della gente. Qui a Nocera Scalo si è visto tutto lo sviluppo che c'è stato, ahimè, uno sviluppo che ha portato anche al declino di questa zona. Don Germano l'ha saputa in qualche maniera tenere viva. Questa chiesa che ha costruito me l'ha sempre decantata, ed è così come una chiesa bella per le sue forme, i suoi colori. L'attestato unanime che c'è stato da parte di tutti, da parte della gente, da parte del clero, sia quello Assisano, Nocerino e Gualdese, sia quello Folignate, è stato un attestato che davvero Don Germano meritava. E' venuto anche Monsignor Sigismondi, l'attuale pastore di Foligno, che si appresta a lasciarmi il pastorale, ecco, una diocese di Foligno con alcuni sacerdoti, perché Don Germano è stato tanti anni anche direttore della Gazzetta di Foligno. E' stato un direttore di vaglia, che ha saputo veramente dare lustro a questa testata. E' stato un uomo anche battagliero, perché Don Germano era tempra di combattente. E' un uomo dunque che con la sua umanità ha saputo testimoniare, accompagnare e segnare tante persone che oggi sentono la sua mancanza, la sentiamo tutti. però l'opera sua rimane, rimane il suo ricordo, poi nella fede rimane la sua presenza. Ci mancherà il suo sorriso, i suoi occhi così intelligenti, la sua cultura, la sua storia. Conosceva questi luoghi davvero come le sue tasche, non gli sfuggiva nulla. Conosceva poi il mondo della letteratura francese, di cui era molto appassionato, e poi a sentirlo declamare dei versi, quando parlava di Dante, Intra, Tupino e l'acqua che scende, ecco, le colle del beato Ubaldo, lui si infiammava. Ci mancherà.